Signori e signori salve a tutti Io sono Vicious17 Scusate se sembra ritardato ma perché abbiamo un po' di lag capito? Siamo un attimo due fusioni diversi Sì Allora Oggi siamo su blind Facciamo tutti i video di colpo finquanto lui c'è Prima che parte di nuovo per Firenze E poi col c***o lo rivedo Quindi siamo su blind Diciamo la verità sono latitante Sono latitante Sono latitante Via Giorgio dei Marci Numero 27 Allora Adesso il primo livello l'abbiamo fatto perché io dovevo un pochino Prendere di mistichezza perché lui gioca con il joystick Io invece uso con il vibratore quindi No uso la tassiera e mouse Perché le cuffie? Perché se non ci sono le casse No 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 va bene Non ci sentiva nella registrazione Allora Io sono quella Io sono la t***o con i capelli arancioni Io sono quella con i capelli viola Perché io l'alternativa? No è bello che i capelli arancioni E cioè è bello che i capelli viola Io lo vorrei avere Posso un attimo Non vorrei avere i capelli viola Nel senso vorrei avere il personaggio con i capelli viola Ah Possiamo un attimo soffermarsi su un piccolo dettaglio del gioco Su un piccolo problema Piccolo problema? È fatto col culo Cioè è bellissimo questo gioco Allora stai qua tu mettiti qua dove sono io Questo gioco è giocato in single player è perfetto Ecco Dove è Francesco? Sono quello st***o che spara da lontano Chi sei? Quindi dobbiamo camminare pure insieme Questo gioco è bellissimo E diciamo che costa una st***a E' stupendo Pesa un c***o E la cosa più bella è questo Il rallentatore Il bullet diamond Ball time Ma ditemi tu Matrix che ci fa a noi Che ci fa a noi A due mani se ce le dovesse fare Luca Non so dove sono Dove sei andato? Sono caduto nello buco Nello buco Allora Io sparo con copertura In caso ci sono gli altri cattivi che mi vogliono sparare Però devo dire una cosa Con mouse e tastiera non è proprio lì Non rende Non rende Soprattutto perché volevo Che i movimenti I movimenti del I movimenti del salto Venissero accompagnati dal movimento Della Della come cavolo si chiama Della telecamera Io sono bravissimo Guarda quanto so bravo Quanto so bravo Oh ma quanto sono bravo Perfetto Abbiamo finito No È bello che abbiamo finito il gioco Giù mi sono diventato Mori Che poi io in questi tipi di giochi sono un rasciatore Quindi Sparalo Sparalo L'importante è che lo spari Spar Bisogna spararo Perfetto Perfetto Diritto Diritto Attenzione Il bello è che qua puoi fare tre salti consecutivi Se spari Anche i barili si possono rompere Ma com'è bello Trapperti quella vita che hai perso No 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 È impossibile che la posso perdere io Vai guarda di nuovo con me se la prende Perché tu sei player one E che vuol dire Sono nero Sei ricchione Non ho capito Almeno se fossi nero O se fossi zembo 89 Lo potrei capire Eri giustificato Aspetta 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 Non va Qua spariamo Qua spariamo che crepiamo Ecco Perfetto Siamo Siamo una squadra fortissima E la prendiamo No ho sbagliato Questa è la telecamera Perfetto Oh 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 Ok perfetto Perfetto I per poco non lo so Oh ma ce l'ha con me ce l'ha Ma preso L'ho saltato io No 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 Abbastanza Sì ma l'elicottero Guarda guarda che è quasi morto È quasi morto Ma ce l'ha proprio con me ce l'ha Quasi morto È quasi morto Mamma mia Alla prima botta Seconda vabbè ma è uguale Alla prima botta Lui si è innamorato di me Alla prima botta Le due pistole devi mettere A pistola Ah no 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 Tu ammazzi i piccolini Io ammazzo ci penso con il bazooka Sì sì Io sono da armi grossi Sì a te diciamo che è più pratico per le grosse grandi taglie Signora Gli piace grosso Le piace romagnati Signora lo spiancino speciale Che gli faccio il pacchetto regalo Non moriamo adesso Porca di sé Guarda era incredibilo Incredibilo Signori siamo arrivati alla fine del video Pensavamo che duravamo di Cioè morivamo più spesso Il video durava di più Però questo è il tempo che c'è limitato E soprattutto La disponibilità di quest'essere È limitata purtroppo Abbastanza limitata Signori Io sono Vicious 17 Lui è padre Pio Padre Andate in pace Ciao